Lo sponsor di questo video è Eneba, un nuovo marketplace dove è possibile comprare software, giochi per pc, giochi per console, abbonamenti per playstation, xbox o switch a prezzi scontati. Attualmente sono presenti sul sito almeno 10.000 prodotti digitali e continuano a espandersi. Ed è possibile vedere sul Trustpilot lo score assegnato direttamente dal sito dagli acquirenti che è eccellente e si parla di 4 stelle e mezzo su 5 per oltre 7.500 votazioni. Una cosa molto importante è che hanno un live support service attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e questo per chiarire il fatto che se ci fosse qualsiasi problema con l'acquisto delle key saranno pronti a risolverlo anche di notte per dire. Tra i loro partner c'è gente come City Interactive, Konami e Crytek. Il market ospita vendite con sconti fino al 70% però è possibile avere un piccolo sconto bonus ulteriore inserendo il codice sconto di RMAX e questo aiuterà sicuramente a sostenere il canale. Tutti i link ragazzi li trovate in descrizione. Quel punto di merda, chi è che ha scelto sto punto? Non lo conosco. Bello, bello. Bello, comunque. Cioè, buono, bello. Ah, c'è un'arma qua, bastardo, non dice niente. Ah, un mitraglione, sì. Meglio dalla pistola. Mi servono 500. Eh, ma c'è un mio che cazzeggia. No, 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 no. Fa le passeggiate. Cosa fare? Cosa fare? Cosa fare? Adesso vengono a prenderci. Sono sicuro. Guarda dove sei inchiodato in mezzo al muro. Dai via, via, snel, snel, snel. La minaccia è diventata aranciona? Rossa. Eh, quindi ce li abbiamo attaccati al culo. Andiamo sul tetto. Qua su, qua su. Ce l'ho già non in via. Mi sa che sono qua loro, perché ci siamo avvicinati noi. Il problema è che non è abbastanza sufficiente il tetto. Ci chiude l'area. Dobbiamo scendere. Lero, lero. Gassi in arrivo. Spostamento nella zona sicura. Non ho detto nuovi. Pietro! Troia, dai, ecco. Uno giù. Provati, buco. No, no, eh no. Anche da sinistra. Ma che sfiga. Fatti. Bella, Max. Spiga di merda. Ce la fai? Sono qui. Ti rimetto in sesto. Non faccio finito nel gulag. Chi sopravvive lì, torna in prima lì. Uff. Bello. Attenzione dietro ogni tanto, Nioh, duca e sei sopra. Eh, perfetto. L'uovino l'abbiamo comprato, raga, scusate. Sì, ce l'ho io. Scusi, mi ce l'ho in tarla. Sì, sì, lo uso, lo uso. Poi lo ricompriamo al massimo. Oh. Oh, ci abbiamo davanti. Tipo il 12. Porca troia. Anche a sinistra, madonna, è pieno. È pieno. Andiamo a sinistra, facciamo un giro a sinistra, facciamo una rotation a sinistra e ci pigliamo quelli davanti a noi e rientriamo nella zona più avanti. Qua davanti uno. Oh, gente davanti qua. È lì, eh. Due. Ci ho visto? No. Tre. In tre. Però vi sta salendo. Vai, 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 vai. Oh, non va giù, grazie. È atterrato, è atterrato. Atterra. Bello. E me l'ho acciolato. Fantastico. Non vedo l'ultima. Lo sento. È qui. Decisione confermata. Ecco, è. Fatto. Bella, ma... Ma è andato a terra però, raga, non era l'ultimo. Magari aveva la reanimazione. Ah, esatto. Codarsi. Cosa che abbiamo? Sensore di battito. Qui va la maschera antigas, non c'è. Qua avete una piastra, se vi serve. No. No, io sono a posto. Allora, col sensore non vedo nessuno. Questo lo prendo. Non si sa mai. Oh, gente qua davanti. Arriva, arriva, arriva. Sputtato, eh. Han chiamato qualcuno. Sto scendendo dall'alto. Atterra, uno. Quello che è sceso... C'è chi non dove ho messo il punto? Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Spaccato, l'alto. Colpito. Uno sopra il tetto. Capito. Andiamo via, andiamo via. Andiamo, andiamo, andiamo. Dietro, dietro, dietro. Aia, mi stanno colpendo dall'alto, dai cecchini di prima. Sì, vieni, vieni. Esatto, fai il giro largo a destra. Stai sotto queste rocce. Quelli che avevate visto qua, li avete fatti? Sì, era solo uno. Sì, 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 ero uno solo. Va bene. Non mi piace qua sopra, raga. Andiamo noi qua sopra? Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Passiamo il giro largo. Si potrà salire di qui? Sì, si può, si può. Un belino tonante si può parto, due. Ok. Stiamo, siamo safe qua. Sì, siamo safe qua. Qua, 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 qua. Ciasi in arrivo. Zona sicura, riposizionate. Dai, porca, porca. Dove? Eccolo, è fuori zona. Morto, a terra? Naltro. Un altro. Fatto. Bella. A terra. Perfetto, bravi. Un altro qua davanti. Fatto. Morto. Buono. Credo che sia l'uomo. Guarda che stavano space andando qua davanti. Uno vicino. Dove? Brava. Prendo il sensore. No. Occhio anche qua da sinistra. Qua davanti. C'è chi no, c'è chi no. C'è chi no davanti, c'è chi no davanti qua. 200. Pittato. Davanti qua da me. No. Andiamo sotto, Pupo? Sì, meglio. Siamo quasi in zona qua però. Ce l'avete a destra. Molotov lanciata. Da lì sopra vi arrivano. Fai le fai tare, fai le fai tare. È davanti a me? Qua. Oh, destra, destra. Ebbene, io stavo guardando davanti. Oh, terzo. Mi sposto qui. Eccolo. Passi in arrivo. Spostamento della zona sicura. Giù uno. A terra. Bella. Ok, Max, tu sei molto troppo avanti. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Oh, qua davanti a me. Lo vedo, dov'è? A terra. Sì, ma ci sono i compagni, dove sono? Macchina. Stanno sparando. Macchina, questo mi folla. Eh, a te farei io, a puttana, macchina. Non ho voglia. Ne manca uno, raga. Ok. Bravissimo, io. Fermo l'emorragia. Andrà tutto bene. Guarda su, i veloci che arrivano. Arriva il giusto. Ci sopro. Abbiamo qualcuno vicino. Abbiamo gente a sinistra. Anche qua. Qua la vedete in mappa? E qua, proprio qua sotto. Lo vedo. Ciccato. Lui ha rotto la... E qua dietro. Uno dietro la macchinina. No, ok. Mi si è messo avanti. Parlo qua in alto a sinistra. Andiamo via allora. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Siamo in una posizione di merda rispetto a loro. Sì. Si può salire? Sì. Non ti ha fatto di merda se sto gioco a salire sulle robole. Sali, per l'amor di Dio. Ok. No, riesco a salire io. Eh, ma non si sale così troppo in alto. Non ci fa salire. No. Ci siamo inculati da soli. Senti qua sotto. Sì. Sì. Ciccato. Dai che non hai chi li fa, ecco. Dobbiamo salire. Un altro. Ancora. Due qua sotto. L'ho il tato, quello lì che ti sta sparando, è qua dietro. Fatto. A terra. Bella. Di qua, di qua, di qua si sale. Di qua. Dove? Che cazzo hai fatto a salire? No, sono appena sceso. No, butta giù. Niente. Siamo inculati di nuovo in questa zona di merda della dica. Porca troia. Non possiamo fare, ma magari chiude qua sotto. Spero. Spero. Abbiamo gente qua attaccata, raga. Occhio, Max, che sei troppo sputtato. Fatto a terra. Sei solo, eh. Ah, io inizio a morirci. Se venite mi aiutate, raga, c'è un team qua. Ah, sì, sì, Max, arrivo. Uh. Due team qua. Uno giù. Ma dai, chiude qua sopra, cioè, non ti credo. Che stile. È cresciato tutto. Dio, che laggata ha tirato. Ma perché chiude qua, che è inarrivabile? Come ha fatto di merda a stessa parte, quasi scavalca. Qua si scavalca. Un altro a terra? Beh, lì da dietro. Ho fatto un altro? Perché? Perché, mi sei disconnesso? Esci da un attento. Ok. Ottimo lavoro. Eh, l'abbiamo fatti, ma... Mi ha crashato. Beh, non posso, sono fatta a chiusura, però. Non si può, veramente. Ce l'abbiamo perso perché non riuscivano ad andare là dentro. Certo. Va bene. Eh, non andate. Perché è un punto diverso con tutti cui... Eh, questo è il karma, mio. Sì. Io faccio una pausa alla tarta volta. Secondo. Io faccio una pausa. Oh, coi. Ciao, là. Ciao, chiamo. Credo細 بال.